Benvenuti a questo piccolo video, i tre cervelli. Sono delle informazioni e delle notizie molto interessanti e molto importanti che stiamo per dire che riguardano sempre l'empowerment e le soft skills. E' importante cioè fondamentalmente comprendere qualcosa sul funzionamento della mente del cervello. Intanto la mente si riferisce a tutte le funzioni cognitive, ai processi che avvengono all'interno della nostra scatola cranica in cui dal punto di vista organico vi siede il cervello. Ora questa è una rappresentazione abbastanza schematica di questi famosi tre cervelli, ognuno dei quali è deputato a fare cose diverse, a compiti diversi. Abbiamo pertanto un cervello molto antico che è il cosiddetto cervello rettiliano o quello istintivo o istintuale. Istinti funzioni fisiche, quindi il cervello rettiliano ed è il primo che si è edificato. Poi abbiamo un secondo cervello che è il cervello limbico che ha a che fare fondamentalmente con le emozioni e che ci rapporta con il mondo circostante attivandosi appunto e occupandosi prettamente di emozioni. Infine abbiamo la neocortecce, il cervello più moderno che è legato ai nostri modi di pensare ed è appunto il cervello più giovane. Ebbene, ogni volta che noi interagiamo con gli altri, che anche comunichiamo, dobbiamo tener conto sempre e comunque di questi tre cervelli. Ad esempio, quando comunichiamo importante sì quello che diciamo, ma si dice soprattutto come lo diciamo, quindi bisogna soddisfare per esempio il cervello limbico e emozionale. Dobbiamo soddisfare anche il cervello rettiliano e quindi magari dobbiamo avere una postura, un atteggiamento non minaccioso o dobbiamo per esempio utilizzare il sorriso perché questo rassicura il cervello rettiliano dell'altro. Ovviamente dovremmo dire qualcosa di sensato e di logico perché poi c'è il pensiero e i modi di pensare che devono essere soddisfatti e di cui si occupa appunto il nuovo cervello, il cervello razionale, se vogliamo, la neocorteccia. Quindi nei processi interattivi, nella comunicazione, nella relazione dobbiamo tener sempre conto di questi tre cervelli. Sappiamo anche che il nostro cervello ha una sorta di specializzazione emisferica, emisfero destro e emisfero sinistro. L'emisfero sinistro è deputato a svolgere la parte razionale, come si suol dire, mentre la parte emozionale, emotiva, è svolta dall'emisfero destro. Questi due emisferi non vedeteli come delle parti separate, emblematicamente, ma sono in realtà connesse tra di loro. Non esiste un muro di separazione. Alcune attività, le attività legate all'arte, alla musica, al rilassamento, alla meditazione, favoriscono la comunicazione tra i due emisferi. Esiste in ogni caso quella che si chiama specializzazione emisferica. Ogni emisfero in realtà è deputato a fare tutta una serie di cose. Ad esempio, se voi fate questo piccolo esercizio, noi leggiamo molto facilmente le parole che ci sono scritte giallo, blu, arancio, nero, rosso, verde, viola, giallo e così via. Ma se vi chiedessi di leggere il colore, e quindi nel primo caso sarebbe verde, rosso, blu, giallo, blu, nero, vedete che facciamo un po' di difficoltà, perché stiamo dicendo ad un emisfero di occuparsi di una cosa di cui non si occupa, e quindi deve bussare all'altro emisfero e deve dire questo è compito tuo, risolvilo. Quindi come vedete il compito riusciamo a risolverlo, però siamo più macchinosi, cioè vi è un ostacolo. Vi invito a provare questo esercizio. Ogni emisfero, come vedete da questa rappresentazione schematica, quindi è deputato a fare tutta una serie di cose, mentre l'emisfero sinistro ad esempio è verbale, analitico, astratto, temporale, razionale, logico, lineare, quello destro è non verbale, sintetico, analogico, non razionale, atemporale, intuitivo e olistico. È chiaro che per fare una battuta occorre conoscere e usare il cervello anche per favorire il famoso cambiamento, e quindi il primo passo è sempre la consapevolezza. Dobbiamo essere ulteriormente consapevoli che però cambiare è una cosa alquanto artificiosa e complessa per l'essere umano. Noi siamo abituati appunto a fare più o meno sempre le stesse cose. Richard Butler infatti diceva che negli esseri umani abbiamo osservato una caratteristica curiosa. Se scoprono che qualcosa che fanno non funziona, la fanno di nuovo. Il cervello è quindi un grandissimo e potente computer, decine di miliardi di neuroni pronti ad elaborare una piccola dose di carburante, cioè l'ossigeno del sangue e un po' di glucosio, circa 30 miliardi di informazioni al secondo. Vi rendete conto della vastità di questo nostro importante e potentissimo computer o strumento. Infine, da un punto di vista pratico, dovete sapere che esistono tre regole fondamentali del cervello per schematizzare al massimo. Il cervello è letterale in primis, si fida delle cose che voi gli dite. Quindi attenzione a quello che dite, a quello che pensate, perché si potrebbe trasformare nella profezia della vostra vita, diceva San Francesco d'Assisi. Secondo punto, impariamo a utilizzare delle frasi positive, evitando il no, perché il cervello non riconosce la parola no. Non immaginare un elefante grigio con sopra la proposcia di un canarino giallo, il cervello che fa la immagina. Terzo punto, che è collegato anche al secondo, non distingue la realtà dalla fantasia. Pensare e fare sono la stessa cosa, quindi occorre allenare il nostro pensiero e il nostro cervello anche in senso positivo, proprio in virtù di questa regola fondamentale. Il cervello non distingue la realtà dalla fantasia. Quindi se voi pensate a qualcosa di negativo n volte, il cervello la prende come una realtà n volte e ve la farà poi vivere anche sul piano fisiologico. Questo, tra l'altro, è anche il cosiddetto meccanismo dello stress, no? Qui. È molto importante e significativa questa regola insieme alle altre tre regole fondamentali del cervello. Bene, io ho concluso, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.